Musica Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV Siete sintonizzati sul canale 17 per la rassegna stampa del giorno Occhio ai giornali, tra poco li vedremo insieme Cominciamo dal santo del giorno Oggi è San Biagio, il sole è sorto alle 7.22, tramonterà alle 17.21 Il tempo che fa per oggi, questa è la telecamera in diretta della nostra webcam Mentre per quanto riguarda la temperatura alle 7.30 di 4.9, 5 gradi centigradi Dunque ancora freddo, giustamente siamo nel mese di febbraio Vedete la cartina geografica delle Marche con l'animazione dei simboli meteorologici Che per oggi prevedono sulla costa, lungo tutta la costa, cielo variabile Mentre nell'entroterra, ad eccezione del Monte Feltro, possibilità di piogge e pioggia mista a neve Con limite delle nevicate intorno ai 900.000 metri Per la giornata di domani, mercoledì 4 febbraio, ancora cielo nuvoloso, molto nuvoloso Con temporanee e locali schiarite durante le ore centrali della giornata Ma avremo pioggia e neve sparse soprattutto al mattino E dalla serata deboli e locali precipitazioni durante le ore centrali Il limite delle nevicate è attorno ai 1200 metri Per quanto riguarda la giornata di giovedì 5 febbraio Lo stesso, precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio Più abbondanti nell'entroterra e nel settore centro-settentrionale La quota neve in calo fino a 7-800 metri Temperature in diminuzione I venti sono moderati dai quadranti settentrionali fino alla costa Dove saranno anche forti, di forte intensità Il mare sarà ovviamente molto mosso Per i prossimi giorni avremo ancora tempo instabile Nella giornata di venerdì Probabile lieve miglioramento Invece tra sabato e domenica Temperature in ulteriore graduale diminuzione Cominciamo dal problema degli sfratti Il resto del carlino Sfratti è morosa anche la regione Marche Deve dare ai comuni oltre un milione di euro Si tratta del fondo statale Che aiuta le famiglie a pagare gli affitti E parliamo ancora oggi dell'emergenza a casa 140 gli sfratti eseguiti a Fano nel 2014 Per 46 dei quali è stato necessario L'intervento delle forze dell'ordine Dato, scrive il resto del carlino Che dovrebbe rimanere costante nel 2015 Mentre la regione Marche è in ritardo Nell'attribuire al comune i contributi statali 2014 e 2015 E oggi in Consiglio Comunale Si chiede la moratoria di sei mesi Per questi sfratti tra il pubblico Ci saranno anche i rappresentanti Di lotta per la casa Sul giornale si parla anche del carnevale Ma questa volta con una punta di polemica Punta di polemica Soprattutto per quanto riguarda il carro Il carro che riguarda la battaglia del Metauro Che tra l'altro vedete in questa immagine In questa fotografia Ospita il sindaco di Fano Massimo Seri Vedremo tra poco sul Corriere Adriatico C'è una polemica a proposito di questo carro Allora invece sul Carlino Il giornale ospita l'intervento di Lucio Gabrielli Chi è Lucio Gabrielli? È un istruttore Intanto è questo signore che vedete qui sotto Lucio Gabrielli è l'istruttore di volo Della Eagles Aviation Academy Che è l'Accademia con sede a Fano Che forma i piloti professionali di linea Gabrielli tutto sommato Il carro ideato da Francesco Simoncini Lo vedete in questa fotografia E da Paolo Furlani è piaciuto Ma si è sentito penalizzato Perché tra le tante battaglie cittadine Ci si dimentica sempre dell'aeroporto Dice Ma giustamente il resto del Carlino È andato a vedere al pronto soccorso Come è andata questa prima giornata Di sfilata di carnevale Perché solitamente al pronto soccorso Poi al termine di ogni sfilata Dopo il getto c'è sempre qualcuno Che va a farsi a medicare In realtà questa volta dopo le sfilate Zero casi oculistici Una giornata fortunata Parlano i medici del pronto soccorso di Fano E della centrale operativa del 118 di Pesaro Moria di negozi in centro Un'emergenza Strade sempre più disolate I rimedi non ci sono Sono lontani Intervengono le associazioni di categoria Confesercenti dice Imposte al massimo sui negozi Sfitti Azzerarle invece All'inizio A chi affitta Poi Più sotto Il caso della piscina Dini Salvalai Sono stati scagionati Tosi e Benedetti Piscina Dopo quattro anni assolti I vertici della Sport Management Andiamo sulla pagina di Pesaro Pian del Bruscolo Da oggi una settimana Dentro il vortice Ancora neve sui monti Aria artica in arrivo E precipitazioni diffuse Sotto Pesaro È tra le città più tartassate In tre anni Imposte schizzate al 100% In un esempio Un negozio di 175 metri quadrati Paga il 105% in più Un laboratorio di 300 metri quadrati 350 metri quadrati Arriva invece al 97% di aumento Tragedia sfiorata invece Per un uomo Che ha tentato di sparare All'ufficiale giudiziario Che si è presentato Per sfrattarlo di casa Si presentano per sfrattarlo Un settantenne Inbraccia il fucile E spara L'uomo ha premuto il grilletto Ma la doppietta aveva la sicura I carabinieri sono arrivati subito Per placarlo L'anziano imbracciava l'arma Ed è stato poi arrestato Oggi sarà davanti al jeep L'inquilino moroso Non aveva mai manifestato Un'indole violenta Però era per lui la quarta visita Questo signore di 70 anni Rodolfo di Pesaro Ha spinto una o due volte Sul grilletto Ma la sua furia omicida È stata bloccata dal caso E dalla prontezza dei riflessi Dell'ufficiale giudiziario Un uomo di 52 anni Si chiama Gennaro Franchini In servizio al Tribunale di Pesaro Andiamo sul Corriere Adriatico Andiamo sulla pagina di Pesaro L'Unione trema 14 emendamenti Tutti i gruppi d'accordo sulla fusione Ma lo statuto fa acqua da tutte le parti Expo 2015 Drudi Il Presidente della Camera di Commercio La Regione dice Ci ripensi Il rappresentante Rappresentate tutte le province Tranne la nostra Il Presidente chiede fondi Per le attività collaterali A Dio A Fossombrone A Nonna Maria Si è spenta 104 anni Ieri c'è stato il funerale In un clima di commozione Era nella casa protetta comunale Dove si veniva festeggiata Di anno in anno Dopo il compimento del suo centesimo anno Era diventato un appuntamento atteso E non solo dagli ospiti Dell'istituto Però a 103 anni Maria Carletti Ci ha lasciati Se ne è andata Allora Frena Canavaccio La frana di Canavaccio Slittano ancora i lavori Sulla statale 73 bis Slittano di due settimane I disagi Speriamo Finiscano al più presto Allora Dicevamo Del Carnevale Il Carnevale L'analisi Del Corriere Adriatico Il Carnevale Sfila l'ombra Della Satira Il carro Con il volto Del sindaco Esalta E non irride Invece Come dovrebbe fare Giustamente la satira Il potere Non graffiano Le allegorie Di Renzi E anche quella di Pinocchio Il serie È stato Raffigurato Nelle vesti Di un generale romano È una geografia I problemi Di oggi Ridotti A epigrafi La forza Di Sacrante Di Mariotti È la stessa Delle foglie D'autunno E non ha Non ha coraggio Il pupo Bugiardo È un'analisi Che appunto Il Corriere Adriatico Ha fatto Questa mattina Guardando I carri I carri Che hanno sfilato Nella giornata di domenica E che Nel momento in cui I carristi Decidono di Proporre la politica E la satira Insomma davvero Sono stati un po' così Molto molto tranquilli Insomma ecco Addirittura Il carro di serie È più Un carro promozionale Per il sindaco Piuttosto che un carro Di satira Vero e proprio Come dovrebbe essere Giustamente Il comune punta Per il 2016 A una edizione Pana europea L'amministrazione Intende partecipare A marzo Ad un bando di Bruxelles Che mette in gioco 150 mila euro Sopra Ombrelli spariti Allora Avanti del signore Coi Coni E tatata Insomma Questo per dire Che Il carriere di Fanno Almeno come prima sfilata Da quel punto di vista È andato È andato molto bene Anche perché Insomma C'è stata una dimostrazione Di maturità Se non altro Maturità anche culturale Un'opera sempre attuale Marconi e l'anzillotta Anticipazioni sull'allestimento Dell'Elisir d'Amore Parliamo Dell'opera Che avrà messa in scena Al teatro Della Fortuna Pullman troppo piccolo I ragazzi restano a piedi Sostituito il mezzo Genitori Imbufaliti È stata qualcosa di più Di una brutta sorpresa Il disservizio Che si è creato Nella linea Otto Centinarola Rosciano Dove salgono i ragazzi Che debbono recarsi A scuola Anche qui la notizia Della soluzione Per i dirigenti Tosi e Benedetti Della Sport Management E poi Eccolo qua Mi sembrava Che Prima o poi Non arrivava Il writer di turno A imbrattare Il nuovo ponte Dell'Ido Scritte rosse Sfregiano La candida Ringhiera La scritta Sulla ringhiera Del ponte Il ponte Dell'Ido Chiudiamo la rassegna Con il messaggero Allarme sfratti Sfiorata la tragedia Anziano rimasto solo Imbraccia il fucile Davanti all'ufficiale Giudiziario La sicura impedisce Lo sparo Affano invece Il sindaco pronto Ad una misura Di emergenza Di fronte La crescente Morosità Incolpevole Expo Negato Pressing Della Camera Di Commercio Drudi Scrive La Regione Si apra Anche Ai nostri Imprenditori Perticari Senza pace Agli orti Giuli Il busto Ancora Imbrattato Unione dei Comuni Votato lo statuto Ma dopo Un aspro Scontro Bocciata la pioggia Di emendamenti Dell'opposizione L'approvazione Avvenuta In tarda Serata Chiudiamo con la pagina Di Fano Eccola qui Emergenza abitativa Record Di sfratti Si è rapidamente Passati dagli 88 Del 2012 E 140 Dell'anno scorso Il sindaco Seri dice Il sindaco Seri Presenta oggi Una moratoria Di 6 mesi Come intervento Tampone Sul provvedimento Mi aspetto L'unanimità L'opposizione Chiede di abbassare L'aliquota Per gli affitti Concordati Ma l'assessore Frena Possibile Soltanto Qualche Limatura Fosso di camminate Lavori a buon punto Completato il terzo Dei quattro stralci L'altra priorità Contro il dissesto Idrogeologico E il rio Crinaccio Anche qui La vicenda Dell'autobus Troppo piccolo Protesta un genitore Mia figlia È rimasta A terra Piscina Il tribunale Nessuna interruzione Di servizio Quindi assoluti Assoluzione Per i due Della sport management Poi sulla Profilglas Botta e risposta Trafanesi del PD E i 5 stelle Possiamo Fermarci qui Per quanto riguarda La rassegna stampa di oggi Grazie per averci seguito A voi tutti L'augurio di una buona giornata E appuntamento Questa sera Alle 20 e 30 Con il nostro Telegiornale Occhio alla notizia Arrivederci